La principessa Beatrice è nota per essere incredibilmente vicina a sua nonna, la regina, e in una recente uscita Beatrice ha detto quanto molto, molto fortunata sia stata a chiamarla nonna. Ecco tutte le migliori foto che mostrano lo stretto rapporto della regina con Bea nel corso degli anni, la nipote della regina, la principessa Beatrice, ha partecipato a un grande pranzo del giubileo la scorsa settimana e ha adorabilmente detto a un partecipante che il suo nome era Beatrice e la regina è mia nonna. Beatrice ha aggiunto di essere stata molto, molto fortunata a considerare la regina come sua nonna, e negli anni è stato sicuramente chiaro quanto la principessa ad or il monarca. Express.co.uk a ripercorre l'incredibile relazione di Beatrice con la sua nonna reale, la regina e la principessa Beatrice a Dascott, 2012. La principessa Beatrice ha trascorso del tempo di qualità con sua nonna alle corse nel 2012, ed entrambi sembravano felicissimi di trascorrere la giornata insieme all'appuntamento annuale preferito della regina, Beatrice salta di gioia ad Ascott, 2013. La principessa Beatrice e sua sorella, la principessa Eugenia, hanno fatto il tifo per il cavallo della regina estimate al Royal Ascott nel 2013. Beatrice sembrava incredibilmente speranzosa, sapendo senza dubbio quanto la vittoria avrebbe significato per sua nonna appassionata di Equini, Beatrice e la regina si incontrano ad Ascott, 2019. La regina e la principessa Beatrice erano entrambe visioni in blu al Royal Ascott, 2019. Il giorno del matrimonio della principessa Beatrice, 2020. La regina e il defunto principe Filippo sono stati uno dei pochi ospiti invitati a partecipare al matrimonio della principessa Beatrice nel 2020, ma la regina si è assicurata che la giornata fosse davvero speciale, prestando la tiara con frange della nipote della regina Mary. La tiara era stata precedentemente indossata dalla regina quando sposò Filippo nel 1947 e le prestò anche un famoso vestito Norman Hartnell per camminare lungo il corridoio. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!